Grazie a tutti i protagonisti di questa bella pedalava che andremo a fare, simbolica, per me è una grande emozione essere qui e vedervi partecipi, grazie a tutti che hanno organizzato insieme a me questa staffetta. Il capo staffetta deve portarsi davanti a Monsignore, prima della consegna i nostri amici delle Chiarine ci fanno il loro saluto e poi Monsignore consegna la pergamene che verrà portata dal capo staffetta alla sinagoga. Grazie davvero a questi ragazzi, a questi amici e grazie al capo gabinetto. Bene, questa è la pergamena che verrà portata dal capo staffetta alla Presidente della comunità ebraica alla sinagoga. Bene, allora il capo staffetta consegna la pergamena alla Presidente della comunità ebraica Daniela, ok? Bene, poi ci consegniamo. Daniela consegna la pergamena alla staffetta per portare al museo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.